Siamo qui a vedere perché stanno facendo anche le gare, venite a vedere, si vede di me. Ma va troppo veloce ora. Ho sbagliato? Sì, ok? Vai, già. Il cuore è troppo agitato. Oh, sì, è giù. Oh, sì, è arrivato. E va, è che quello delle cose, credi? Sì, è giù. Sì, è giù. Sì, è giù. Sì, è giù. Sì, è giù.